Quando sei partita per Marsiglia ti ho accompagnata io all'aeroporto. Sono andato al negozio di souvenir e ho visto questa catenina. Era d'oro, aveva la scritta Stillwater. Per me era un pezzetto di casa da portare con te. Sei a Marsiglia in vacanza? Sono venuto da mia figlia. Tu sei il padre della studentessa americana? Sì, signora. Allison è venuta qui per il college ed è qui che ha conosciuto una ragazza, Lina. Una sera l'ha trovata morta e ha chiamato la polizia. A loro interessava solo che andasse a letto con una ragazza araba. Io la amavo. Questo lo so. Ma tutti pensano che l'abbia uccisa io. Abbiamo esaurito ogni possibile azione legale. Il tuo avvocato non è di aiuto? No, lo faccio da solo, per ora. Ti aiuto io? Come ti chiami? Maya. Maya, è un bel nome. Lei è molto protettiva con me. Ha mai visto quest'uomo? Nessuno parlerà con te, fidati. Tu non sei di qui. Non sei al sicuro. È mia figlia. Papà, ti prego. Non mi arrenderò. Sarebbe un errore commettere un reato per dimostrare che tua figlia è innocente. Non la farò uscire di prigione. Manderò dentro te. Signore, ti prego di vegliare su Allison. Amen. Polizia. Le hai chiesto di mentire. Cerco di far uscire mia figlia di prigione. Voglio solo questo. Sembri proprio un americano adesso. Bene, perché lo sono. Già, però qui sei anche uno straniero. Che cosa hai fatto? Devi fidarti di me. No ti prego. Ciò si è qui. No ti prego.